Ok ragazzi, siete fra i tizi che devono scegliere i film fuori concorso alla Biennale di Venezia. E se per essere alternativi selezionate una pellicola come Russian Sat Wars, ovvero i russi vanno in guerra, frutto dell'impegno di una regista, produttrice e documentarista russia, Anastasia Trofimova, la quale ha lavorato ad 11 documentari per Russia Today, televisione diventata nota per essere organo della propaganda russa, che cosa potrà mai andare storto? Come potete immaginare, questo docufilm, della durata di 129 minuti, che sintetizzano l'esperienza di questa documentarista, che è stata gomito a gomito, mano nella mano, con i soldati russi per sette lunghi mesi, è stato bollato senza pietà alcuna come opera di propaganda russa. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme. In primo luogo, questo documentario è opera di Anastasia Trofimova, una documentarista russa, che ha lavorato per Russia Today, e ha lavorato per Russia Today preparando altri 11 documentari. E ragazzi, a occhi e croce, almeno uno di questi documentari sullo sport russo sembra la bella copia di un documentario girato nella Germania degli anni 30. E non sto scherzando, è letteralmente girato sulla stessa falsariga. Perché lo scopo, a mio modesto parere, è quello di promuovere il governo facendo vedere quanto sono belli, bravi, coraggiosi e pronti al sacrificio gli atleti russi. E, a mio modesto avviso, quest'opera, insieme alle altre 10 preparate per RT, rientra ampiamente nella definizione di propaganda russa. E la cosa davvero grave non è che questa regista produttrice documentarista abbia già preparato dei film di propaganda. La cosa davvero grave è che questi film di propaganda non risultano nel suo curriculum. Al Toronto International Film Festival, per esempio, non li citano. Perché nelle biografie ufficiali si mente circa il curriculum di Anastasia? Va bene citare il New York Times, il Washington Post e la CBC. Va benissimo, ma perché mi ometti il fatto che ha lavorato con RT? Perché dichiari che questo è il suo documentario di debutto quando in realtà non è assolutamente vero? Messa così, sembra che qualcuno ci voglia nascondere qualcosa per far apparire Anastasia assolutamente imparziale. Anastasia stessa alimenta questa tesi affermando, per esempio, che lei per girare questo docufilm di 129 minuti abbia trascorso sette mesi fra le truppe russe del Donbass entrando illegalmente nel Donbass e senza segnalarlo neppure ai collaboratori di zio Vlad o, come volete che lo chiami attualmente, zio Vova. Lo dice lei stessa nel trailer del suo documentario e lo ribadisce naturalmente ad ogni intervista. Ora, io mi domando e dico come è possibile che in Russia una nazione dove ci sono oltre 500.000 agenti dell'FSB cioè dei servizi segreti tu possa entrare e uscire senza che nessuno lo sappia oltretutto tu non stai entrando e uscendo da civili in mezzo ai civili vai a passare sette mesi con un'unità militare come fai a passare inosservata? Ci sono gli ufficiali, hai i commissari politici c'è un mucchio di gente che incontri ogni giorno tra l'altro sei anche donna quindi non sei esattamente il militare medio verosimilmente in questi sette mesi spero per te che tu non abbia imbracciato un fucile si capisce che non sei un soldato della Storms o di qualsiasi altra unità perché se finisci in artiglieria non credo che ti facciano portare i proiettili se vai in un'altra unità di logistica non ti faranno caricare e scaricare i camion come agli altri soldati e immagino anche che non ti facciano combattere come gli altri soldati quindi si capisce in sette mesi che non sei una di loro anche perché tutti i ragazzi che incontri nell'unità agli quali fai domande e vai in giro con la telecamera lo vedono che sei una documentarista una regista, produttrice quella che sei oltretutto Anastasia afferma di non avere alcun appoggio da parte del governo di zio Vlad slash zio Vova ma dati di Open Intelligence mi fanno dubitare circa la correttezza di questa affermazione ovviamente non ho la prova provata tuttavia è in dubbio che Anastasia si sia trovata in situazioni dove normalmente soltanto giornalisti che collaborano guancia guancia spalla spalla con il governo russo possono uscire indenne per esempio abbiamo un'immagine questa scattata nel 2017 e la nostra Anastasia con qualche anno in meno è sempre caruccia come potete vedere in queste circostanze sta facendo fotografie o sta riprendendo una manifestazione di Navalny mentre la polizia sta per iniziare a caricare e soprattutto arrestare manifestanti e giornalisti quel giorno un mucchio di colleghi di Anastasia sono stati arrestati dalla polizia e come minimo trattenuti per ore e ore ma lei misteriosamente pur essendo in prima linea non venne neanche sfiorata un ufficiale di polizia disse di lasciarla perdere letteralmente questo invece è un articolo pubblicato sul New York Times il 16 giugno di quest'anno cioè del 2024 e indovinate un pochino chi ha collaborato e chi aveva accesso a Grozny e Bakhmut esattamente sempre Anastasia ora ditemi secondo voi a Grozny che si trova in Cecenia sotto lo stretto controllo del Caddy e a Bakhmut che si trova ovviamente nella zona occupata dai russi del Donbass si può entrare sportivamente senza avere l'appoggio e il sostegno del governo di Ziovova? Anastasia dice di sì ci racconta che questo docufilm della durata di 129 minuti presentato alla Biennale di Venezia e al Toronto International Film Festival è tutto frutto della farina del suo sacco e di un'operazione segreta durata sette mesi durante i quali la nostra documentarissa indossa un uniforme militare o qualcosa che gli assomiglia davvero tanto perché come Lucidi insegna da quelle parti nessuno utilizza la scritta press e indossa giubbotti e caschi antiproiettili di colore blu questa ragazza ci dice che il comandante dell'unità con cui era in contatto l'ha fatta vestire da militare per evitare che gli altri militari le sparassero e naturalmente in questo modo se mai l'avessero colpita gli ucraini si sarebbe potuto dire che gli ucraini brutti e cattivi colpiscono i giornalisti immagino così come immagino anche che i russi siano soliti sparare alle persone che hanno la scritta press perché non si spiega diversamente a meno che naturalmente Anastasia non fosse un agente del governo un militare vero e proprio avesse un grado nell'FSB non lo so e che quindi fosse autorizzata o addirittura in dovere di utilizzare quell'uniforme chiusa comunque questa parentesi veniamo al budget il film da chi è stato finanziato? la risposta è o da un crowdfunding di canadesi oppure ancora direttamente dallo Stato canadese la possibilità che questo film sia costato ai contribuenti 349 mila dollari è rilevante perché questo è il contributo che è stato dato per l'appunto al film ora per quale motivo i canadesi hanno pagato circa 30 mila dollari al mese ad Anastasia? l'hanno fatto perché lei potesse girare un documentario in cui si umanizzano i soldati russi toh guarda Anastasia era un'opera proprio fondamentale perché qui noi in occidente pensavamo che i soldati russi fossero dei cyborg dei robot dei tizi geneticamente modificati non lo so dei demoni gestiti da un demone superiore questa roba qui invece tu ci fai un documentario di 129 minuti per dirci che i soldati russi sono esseri umani ti dirò l'avevo già capito perché soltanto gli umani fanno certe cose intendo dire tu hai mai visto un cane consumare una strage io sinceramente no hai mai visto tigri leoni elifanti giraffe muli cavalli compiere stragi ai danni dei propri simili no quindi il fatto che tutto ciò fosse opera di umani lo potevamo capire anche senza il tuo documentario poi si ci presenti le motivazioni dei soldati russi non è che abbiamo necessità di guardarci il tuo documentario le conosciamo già ci fanno una marea di tiktok sopra c'è qualche invasato convinto di combattere per la patria c'è il tizio che dice vado in guerra io così non lo faranno i miei figli tra l'altro ne hai beccato uno anche tu di questo tipo qua che poi ragazzi è fantastica vado in guerra io così non ci vanno i miei figli sì certo come no tu hai contribuito a mettere via il potere Putin a tenercelo ti ritrovi uno stato in economia di guerra dove un rublo su tre del bilancio viene speso in carri armati e credi che Ziovova si fermerà e che a un certo punto deciderà di smantellare tutto e tornare magari a zappare il suo orticello nella sua dacia in montagna lasciando il potere a tuo figlio no molto banalmente troverà altre guerre è stato fatto nel 99 prima ancora che arrivasse lui o proprio in concomitanza con il suo arrivo è stato fatto in Georgia credo nel 2008 è stato fatto in Ucraina la prima volta nel 2014 e adesso lo sta rifacendo fra qualche anno attaccherà i Baltici la Moldavia più probabilmente perché non è affiliata alla Nato e tuo figlio dovrà andare in guerra esattamente come te sempre che tu sia ancora vivo per vederlo e poi naturalmente ci sono quelli che vanno in guerra perché sono pagati per andare in guerra al momento attuale tra l'altro lo Stato russo paga più un militare neofita una recluta appena per l'appunto ingaggiata rispetto a quanto pagano gli Stati Uniti d'America una recluta quindi economicamente conviene hai una marea di incentivi i tuoi debiti mentre stai servendo nell'esercito sono sospesi quindi puoi prendere un po' d'ossigeno sempre che un proiettile non ti perfori i polmoni insomma c'è umanità varia nell'esercito russo lo sappiamo poi c'è anche quella variata che consuma reati crimini di guerra in sette mesi tu tra l'altro non hai mai visto una violazione delle regole d'ingaggio è una gran bella cosa perché oggettivamente per quanto mi risulta in sette mesi di combattimento è umano che qualche errore ci scappi evidentemente i tuoi soldati sotto questo profilo tanto umani non sono in realtà questo film ha sì uno scopo propagandistico è quello di far vedere che i russi in fondo in fondo sono esseri umani come gli altri passano il confine vanno a sparare ad altri umani distruggono case bruciano persone occupano anche le loro case come è emerso ma sono persone normali il che è vero guarda che anche durante la seconda guerra mondiale i bippisti erano persone normali nessuno di loro aveva i superpoteri o era un demone erano persone normali che facevano cose orrende ed è per questo che dobbiamo avere paura il problema è che il tuo video manda il messaggio sbagliato manda il messaggio che siccome queste persone che combattono fanno cose brutte cattive pulsone radono al suolo città eccetera eccetera sono persone normali è tutto normale no non lo è non c'è assolutamente nulla di normale in conquistare tentare di conquistare un'altra nazione nel 2022 slash 24 non in Europa non c'era alcun motivo per invadere l'Ucraina e quella gente che ha intervistato e che è diventata la tua famiglia per sette mesi sta portando avanti dei crimini non è normale non è simpatica è semplicemente crudele nella migliore delle ipotesi sono degli ingranaggi di un dittatore e sono cose che in Europa abbiamo già visto durante la seconda guerra mondiale durante il ventennio in Italia non c'è assolutamente nulla di normale nulla su cui empatizzare insomma se il tuo video si fosse chiamato la sciatteria del male e avesse avuto un taglio leggermente diverso l'avrei perfino potuto apprezzare del resto su questo canale diamo voce ai soldati russi ogni giorno ogni giorno vediamo i loro problemi ogni giorno vediamo quello che fanno quello che dicono e quello che pensano quindi direi che questo video non combacia moltissimo con la realtà potrebbe essere peggio ma è peggio proprio perché è subdolo cioè non ti dà un messaggio diretto normale nel bene o nel male capisci nei video nei tiktok nei video messaggi che vediamo sulla rete la gente si presenta esattamente com'è senza filtro tu invece Anastasia fai da filtro e filtri moltissimo da quel poco che sappiamo e che abbiamo visto poi magari se e quando mi procuro il film senza finanziarti perché magari un amico lo prenderà un domani molto lontano o sventuratamente finirà su un circuito tipo Netflix Amazon o giù di lì magari mi farò un'idea diversa e nella recensione dirò mi sono sbagliato Anastasia è una brava ragazza ma sinceramente da quello che si vede nel trailer tu stai semplicemente giustificando queste persone dicendo sono persone normali che vanno in guerra sì sono persone normali anche quelle che difendo io tutti i giorni tra l'altro io sono pagato per difenderle e per ripetere quello che dicono loro tu in teoria no ma a parte questo intendo dire sì sono persone normali che vanno in guerra sì ma in guerra uccidono gente distruggono le case degli altri le occupano non ti permettere di giustificare questi comportamenti semmai la lezione che persone normali possono fare cose tremende insomma lo ripeto se Anastasia tu avessi chiamato questo film la sciatteria del male guarda l'avrei anche potuto vedere ma i russi vanno in guerra anche no grazie e sinceramente mi vergogno che una istituzione come la Biennale ti abbia dato spazio se fossi canadese mi vergognerei anche per il Toronto International Film Festival ma come direbbe Deadpool e Reynolds io sono italiano non sono canadese beh in realtà per lui sarebbe l'opposto comunque il concetto di fondo è proprio questo quindi se qualcuno mi dice questo è un film interessante la risposta no è la solita minestra riscaldata è un film di propaganda sì lo è volontariamente non lo so e non mi interessa è troppo squallido per esprimerci sopra un giudizio e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi mi piacciono i miei video ricordatevi di gratificare il canale e sostenerlo iscrivendovi attivando la campanella tanto suona pochissimo non vi disturberà mai condividendo il link al video con gli amici che sono interessati alla materia e naturalmente lasciando un mi piace grande e grosso qui sotto se poi vi interessa il canale e lo volete sostenere ricordatevi che potete farlo anche abbonandovi oppure diventando dei Patreon se non farete tutto questo in un futuro estremamente remoto improbabile e decisamente eventuale potreste ritrovarvi in ufficio Anastasia per sette mesi al fine di dimostrare che anche voi sul vostro lavoro siete umani io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto